Tutti presenti come recita il titolo traccia di quest'anno e pronti alle nuove sfide pedagogiche. Il Festival dell'Educazione sta per portare tra Basso Varesotto e Alto Milanese le traiettorie di un impegno che parte dal basso per puntare alla vetta di una ripartenza consapevole a misura di giovani e di senso della comunità. Al Via, il 13 di novembre, la seconda edizione, la prima edizione è stata nel 2019, e ha come titolo Presenti per una comunità che si educa in profondità. Questo titolo vuole ricordare, è un appello a tutta la comunità educante, a tutti quegli adulti che sono appassionati nell'educazione e vogliono essere presenti nelle nuove sfide del Covid e del post-Covid. Si comincia il 13 novembre a Castellanza con l'inaugurazione della simbolica panchina blu antibullismo alla presenza del Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, Ciro Cascone, e l'avvio ufficiale della rassegna. Dopodiché, avanti spediti fino al 27, con una decina di eventi tra dibattiti e ospiti pronti ad analizzare le tante facce dell'educazione, quella scolastica, quella sportiva e poi artistica, culturale e sociale. L'idea è che sia un festival accessibile a tutti, quindi è radicato sul nostro territorio, sono 10 eventi in queste due settimane di festival, quindi non è in un unico posto ma è in diversi posti. Partiamo appunto da Castellanza dove ci sarà l'inaugurazione sabato 13 e chiuderemo a Legnano dove appunto faremo l'ultimo evento della nostra rassegna. Multiforme il programma multidisciplinare, il target di riferimento. Perché l'idea è che davvero possa essere accessibile dal genitore, dall'insegnante, dal docente, da educatori professionali, da assistenti sociali, da psicologi, ecco, sia proprio un grande evento comunitario per tutti quelli appunto che hanno a cuore l'educazione. Una ventina i comuni che hanno concesso il patrocinio insieme all'Università Cattolica e Bicocca, fondamentale il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto, in cabina regia c'è la cooperativa sociale La Banda che sul sito dà l'opportunità di informarsi e prenotare.